musica si ma dove siete adesso? ma le stelle sono semita io sto picchiando le tante grazie brofist 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 no figa che ho poca vita ma tu che ho poca vita siete ma quanto siete scarsi eh ma perchè quando tu che fan male i pugni eh quando tu non hai più niente da mangiare da bene ti mangiare la vita dammi un pugno dammi un pugno puttana merda non è una bella cosa eh cosa vuoi da fare dai e teoricamente dovremmo ci sono qua c'è un fortino per sopravvivere diciamo il più possibile ma è come faccio a guardare le robe tipo qua cristiano qualche po' così d'alaii ma siamo al ventesimo giorno dall'alaii dell'inventario c'è sopra c'è la tabella del crafting e di questo è un manicomio io c'ho una tessera qua c'ho un eh no praticamente ti vengono a destra ti vengono fuori le cose che puoi fare in base agli oggetti che hai se tu non è cazzo lo fa un cazzo ecco si intravvedo un villaggio un concerto è quello no c'è un uomo ma Daniele quanto ci vuole ancora eh si sono quasi arrivato ma Michael dov'è è sparito figa ma Michael se ne è andato scusate ma scusate ma aiuto facciamo così torniamo a Dressville ah sta oh dove sei però non si si tolla che è toscudo ma Michael dov'è si è andato ma Dressville cos'è un cimitero? no 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 ma se la stella mor si presa poco sono su una specie di sentiero si ma quale stella sei però eh c'è una stella i due di stelle perchè va bene io vado un attimo a che parte devo andare aspetti vengo a prendere vai sulla stella giusto precisa proprio ok chi è quello? non perchè mi si sta bloccando giù no vabbè io non mi sto muovendo sono morto perché sono morto? eh perciò eh non è niente che c'è sta roba oh c'è le zanzarine ci sono le zanzarine ho visto qualcuno che si muove ho visto qualcuno che si muove fermati tu chiunque sia sono io magari no sono io sono io mi vedi che sto saltando c'è un ask c'è un ask c'è un ask c'è un ask no girati giri a destra ma da dove è con quale destra? la mia roba sto dicendo sto dicendo sto dicendo sto dicendo sto dicendo sto dicendo una pianta grassa vieni 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 io invece ho perso tutti ma ci puoi correre qualcosa? si con la shift ecco ho visto visto ma come peraltro che sei? cosa si deve fare? vedo qualcosa la che si muove oh fermati fermati mi fermo no ho visto quella che no due persone fermatevi stiamo arrivando io la zanzarina che mi chiama che mi va nel culo sto arrivando con mor fermatemi e apicchiarli fichiamo la zanzara vai tutto sotto due ne arrivano non una due oh ma quanto son grosse ma dove siete? un po amore in campagna merda se la prima era la parola nike 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 profondo proprio aiari ea io ancora te sto morendo sto morendo via 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 per un cd nata vieni qua figli di puttani vieni qua tutti gli saltano oh chi è che già la mazza chiusata è la bestia quanto è grossa tutti ci siamo tutti tranne michael devo farci una tiglia più piccola aia cacca tutta merda ooo li mortazzi dalla cosa figa adesso gli butto la mina addosso proprio la bidella, proprio la bidella quella delle medie, la butto addosso la mina oh ma sta volando via che cazzo fa ma perchè qua c'è il sacco della spazzatura? c'è Antonio che la sta sp... che che gli ha sparato? io perchè mi aveva rotto il cazzo scusa che cazzo guardi? vai giù mi stai guardando l'uccello? oh che cazzo fai? ah sei tu allora vaffanculo ecco perchè non mi rispondevi brutto stronzo oh cristian su camelo su camelo ma guarda con lui le niche ma guarda te ti sei tolto una costola per fare quella roba? si oh 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 ma dov'è? dov'è Daniele? oh Daniele? sono qua da... nel fortino di merda di Cruz ma figa ho perso tutto passa tua maledetta come di fortino di merda di Cruz ah oh venite con me sarà qua allora figa non c'è più niente nell'inventario niente niente nell'inventario niente? ma che cazzo è? è rafforzativo l'inventario per ruoli con maggioranza ah ok dove cazzo sei? non ti vedo eh noi siamo qua dove c'è la dove... dove eri muo... no dove cazzo 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 mi sono sconnesso non c'è più un cazzo oh ma basta pietemi puggi sto morendo ho sbagliato non l'ho fatto apposto volevo guardare un brofist ma cos'è sto parlando di fidelli? eh siamo qua dove eri prima che eri uscito al fortino qua ma siamo tutti quattro anni Michael non so non mi sbagliarti se connessi in un altro server ne Dani? ma Michael è uscito mi sa direi di no perchè sono con voi niente Michael è uscito Dani ma dove stai scusa? oh auguri Antonio ah anche te auguri in cazzo qui ah io li morta ah ma sto morendo oh no oh oh ammazzia con quello cosa che c'è? non smettiti putt' una mina addosso sono la mia maganza qui si smette darmi un buio che da non ti prendo a pugni dei coglioni eh aspettiamo da neile che qua so le 5 tra un po' crepiamo tutti secondo me amalizzo mi vambia di giorno eh no beh ci sono però non li vedi non ne vedi anche se non mi metti di sere invece vengono a salutarti cosa c'è in mano su qua oh un topo morto un topo morto un topo morto un topo morto sembra che sta facendo vedere qualcosa ecco mai ucciso deficiente bene adesso devo buttare la roba io ma no figa adesso devi fare tutto il meglio ha più video eh ho messo un letto che vuoi sai dove è la ghetto no? in parte no amor sa poco no se schiaci a cm vedi la mappa e c'è la ghetto ne so sei una bestia ignorante ma Daniele? ma che cazzo? le spine chi è che ha messo un fiselo di legno qua sopra? io oh Daniele oh cazzo sei? si ma io ero rinascosto delle spine come faccio a spostarli? salta siamo qua al fortino noi Daniele ma che sono le sei? oh è finita là? sono qua di fianco io dove? ti giuro non ti vedo te che che ride avanti? stiamo in giro tondo ma siete sicuri che stai parlando dello stesso fortino no? perchè sennò qua ci stiamo cercando eh no io Daniele non lo vedo ma sai dove sei uscito prima Daniele? quando avevi gli errori lì quelli lì noi siamo qui dove c'è il laghetto mi ha la ghetto con il basso a destra Daniele hai capito Daniele? perchè vedo che Cristian continua ad eliminare Mor? è perchè rinasco su delle spine adesso voglio ho levato un pezzo ma va come rinasci sulle spine? boh intanto me le team salgono sono quello che sta facendo meglio sto facendo 5-0 isaac newton mother fucker come si fa a scrivere che non mi ricordo hai scritto un po' così alla cazzo? ah si ti ti stai uccidendo? ma nick ti stai uccidendo? cosa? ti stai uccidendo isaac? è un po' difficoltoso sopravvivere mi do qualche pacca guarda nick? ma da fucker io ho fatto una grande casa? mi sorrivo eh un attimo come io ho fatto una grande casa? che cazzo me ne freggo? oh che bigò ahahah io ho fatto un grande piccolo hai ignoranti che una presta ahia ma ti ha ucciso krius però no ahia l'ho ucciso mi sono caduto oh ma ce la fate arrivare qua? no no lo so io boioli intanto prendere a pugni in faccia krius si è un po' incazzato sai che sei incazza e chi mi dice su krius? ahahah ahahah eh figa stavo uccidendo nick cazzo è morto sulla krius ahahah ahahah chissà che sei incazza ahahahahah ahahahahah ahahah 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 si ho capito ma io sto facendo il video lo sapete eh? ahahah ma che oooh chissà che sei incazza seee ma cos'è? ahahah oh io sto facendo il video dopo lo metto su youtube quindi intanto salutate tutti ahahah no io lo sto facendo davvero ma si sentono anche le voci? eh si che si sentono anche le voci ma ti ho cane ahahah 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 oh ma che casotto sti zombie fio oh beh se mette tutti così ma sei ancora qua sotto nick eh sto scavando sono di pugni però poi esco ahahah sei fortunato che questo è sabbia ahahah se fosse roccia ahahah sabbia che bu oh rossa il casotto della madonna di sciu ahahah stai scavando tutto ma dov'è krius? sono qui krius sono qui krius sono qui krius danieus non mi vedeus no 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 intendo ma stanno spraccellando il cazzo dov'è? intendo è in camera che cazzo è successo? ascolta fai così anche tu cos'è? krius ha dato un colpo di lanciarazzi oddio fa il culo era appena arrivato in cima oddio io sono qui che ho paura a mettere questa qui che dove? eh? vi sto qua da solo invece vedi tu c'è solo che può è qui krius è qui in un cubetto è qui krius dai piantiamo di pugni a krius dove? mi sono suicided dai aiutami aiutami dove? è qui dove rinascere vieni ucciso è il primo dovere che si è suicidato ma sta scappando sta scappando krius dove? qui qui dove mori e dove rinascere la stella nasc si dove nasce con la stella qui nasce con la stella e io figlio ma qui dove rinascere la stella porca puttana ma allora è italiano cioè allora la parla italiano quel giorno porca puttana aiutami aiutami eh no mirko sei ancora là dove dove c'è la stella ragazzi è qui krius porca madonna dai sei tu italiano vieni nick eccolo ecco aiutami qui 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 oh che cosa è sono io oddio ma c'è la dinamite questo c'è la dinamite e poi la luce brucia via fuggi fuggi hai visto ha fatto il cazzo che dai ho un piccone perchè è un piccone oh ma ragazzi mi ha fatto esplodere la dinamite sto qui come perchè è un piccone l'ho trovato dinamite eh prendi i cupi prendi i cupi oh figlio cosa fai ma io sono qua nella terra di nessuno che cazzo è cosa sia ho preso un piccone ah ma dove siete ragazzi dove siete da quando esplode coi pugni oh dove siete da quando non c'è più un accendino per accenderla raccogli la sabbia che serve per fare eh raccogli la fabbia che serve per fare eh raccogli la fabbia che cazzo siete per fare i castelli se eh scusate un attimo ma io sono qua nella terra di nessuno sono dove c'è un casotto qua dove siete come un casotto un casotto dove eh c'è una capanna sulla mappa cioè viene indicata come capanna Mirko 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 eh andiamo di qua dove c'è la ma fa una cosa suicidatevi tutti così ci troviamo c'è che io scuocco lo prendiamo a mazzate dai ma io sono suicidiad ma io sono suicidiad ma io morite tutti che arriviamo qua la stella ma io giocchiamo il fortino cosa ha sparato a natale facciamo occupazione col fortino dai venite dai venite qua oh Nick dai salta dentro ho comprato un fiore no Cristian aspetta aspetta c'è Krius c'è Krius c'è Krius mi chiamo Krius c'è 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 un mitragliatore coi figli di puttana puttana nooo sono sotto chilometri di sabbia scusa scusa volevi diventare un faraone coi ah finito le munizioni coi e Nick ti conviene venire su perché adesso arrivano orde di zombie l'epiccine ci mettiamo qua ma parli di domanda e venite qua la stella ma parlo io non c'ho più un cazzo è le cammini sarai che picchia picchia non riuscire a costrucci e 32 pezzi di sabbia che cazzo faccio nella vita è che poi metti i bastoncini nel culo è bello picchiare krius hai guarda l'aspetto è un totem ma dov'è krius? ah eccolo la vai a p***o da merda vai 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 badafacca ahahah ah muori ma è vero perchè gli avete tolto il letto qua ecco perchè non si spawna più qui eh si ce l'ho fottuto io e' bravo ma dov'è la casa? salta i nick devo fidare eh ragazzi te la fai dov'è la casa di nick che ci arriviamo? però salta porca p***o no via 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 cos'è sta roba? dove dove può correre? non lo so non ci dicono dove sono ma siamo al fortino di krius ma dove cazzo è il fortino di krius? e' a sinistra in linea d'aria del quadrato prima del fiume e' a sinistra nell'area del cos'è? cos'è aria per due cos'è? c'è il quadrato in passo a destra in linea d'aria a sinistra prima del fiume ah ho capito ci sono i cani? e' bastava dirlo e' che cazzo ho detto prima? hai detto E2pickup e' certo ma insomma dove cazzo è? ma che cosa cazzo di? hanno preso sti cazzo di zombie che corrono come le bestie aia non sono i pareti di Usain Bolt porca p***a la cascata sarebbe? aia sono morto oh ma oh aspetta mi chiedi e' Nick tu non sei? e' adesso ce ne riesco a oh e' la cascata? e' la cascata? e' cascata? ma non la cascata e' dove eravamo prima ah oh Nick senti mettiti un cubetto e poi lo togli dai e' non ci arrivo ma stiamo sbagliando e' vero che cazzo sta detto vieni qua che adesso arrivano gli zombie ah ma porca ma dai Nick cazzo ma dove siete? io mi sa che sono il furtino di Isaac Newton eh no ma Dani è più o meno dove c'è la stella? e' si diagonale in basso a sinistra è proprio perfetto dove c'è la ghetto insomma oh apritemi io c'ho anche i cani di Usain Bolt che mi stanno rincorrendo qua e qua c'è un grassone con la camicia giamaicano Paolo? probabile Paolo Massaro dopo mandagli un video su youtube eh Mirko così non lo vede chi? eh? e' dopo glielo fai vedere su youtube il video dove diciamo che è il grassone cosa? no aspetta c'è una cascata lì dove c'è il fortino e' ha le cose a punta oh ma ragazzi eh io sono qua dentro oh è pieno di zombie eh oh apritemi oh non c'è nessuno qui non c'è niente da aprire non c'è nessuno qui ma no ma ero arrivato ma vaffanculo oh ma ragazzi non c'è nessuno si lanciano oh si lanciano oh dove cazzo siete? oh dove siete? oh yeah ma player Christian Died vuol dire che sono a dieta? si cosa c'hai tu Antonio? Cesaro di te? gli armi? oh qualcosa boh cazzo ne so no ho detto io che qua io sono qui non c'è nessuno eh si un'arma o qualcosa che io sono a secco eh c'è il fucile, il piccone, la mazza spinata lascia cosa vuoi? cos'hai un'armeria tu? la mazza spinata dove? ah quella lì che avevo lasciato cadere io si to oh ragazzi ma dove siete fighe io non ho ancora capito io si stanno entrando adesso sto entrando adesso io no io sono andato il fortino di prima dove era uscito Daniele ma non c'è nessuno però io sono andato nel suo lavoro come fanno saltare questa merda qua dove è la sua volta? ecco 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 2 e ehm 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 secondo me ti conviene star lì perchè adesso qua è pieno di zombie eh suicidiati ehm ehi non ti preoccupare che ah si entra dall'altra parte? eh si dove c'è la con la friccia in cascata ah dove c'è la cascata con gli spuntoni? eh si ah mi suicido dove vado? se pare che sono morto eh Antonio metti il letto che così rinascono tutti qua no? uccisionate eh ah già in basso a sinistra? si no fermi fermi adesso mette il letto e poi risuscitate eh sono dentro ma in basso a sinistra dove? nella casa? no allora si ecco lì dove c'è la casa bravo esatto adesso ne son letto e per dormire come si fa? non si dorme ma come non si da mezzo sonno io figa avete messo il letto? ok allora ok sono uscito come se uscite? adesso Decaiette viene da voi eh perchè dice che è morto no eh togliettelo subito il letto però se no dopo spawno tutti qua io sono rispawnato qui eh per cazzo ma a me non mi ha fatto rispawnare giusto oh ma a me non mi ha fatto rispondendo ma a me non mi ha fatto rispondendo ma a me non mi hanno fatto rispondendo ma a me non mi ha fatto rispondendo oh ma mettete quel cazzo di letto che vi vengono lì muoviti s è un secondo sa devo mettere il letto spero 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 no vengono da io aspettate voglio poco adesso che sono arrivano tutti gli aspetti aspetta aspetta ma io rinasco qui mi fa rinascere qui a me se cazzo ecco fa me cosa faccio? lo lascio giù un letto lo lascio giù un letto lo tengo su o giù giugliamogli il fortino se puoi lasciarlo giù magari se muoio cerco di venire lì ma che ti ho portato dei regali oh ma danny ma dove cazzo sei? sono qua io ecco lasciateli il letto così almeno non so dove andare ma che cazzo è il pezzo di merda? oh mi fate entrare sono fuori io come sei qua fuori eccomi salta che ce la fai cos'è sta roba? ma qui non entrano una salvietta da culo? si beh adesso una volta che sono qua adesso basta hai finito il gioco? finito il gioco allora io chiudo il video salutiamo tutti un saluto da Christian ciao Christian ciao Christian ho detto un saluto da Christian non a Christian stai lontano cosa stai facendo? lui li mette in dita proteggo da Christian usa un elefante chiunca corba chiunca torte voglio Grazie per la visione!